non si bella mai ragazzi riacci tutti quanti cari che impatti nel canale ben ritornati con il buon anno fabrizio e un saluto a tutta la community ciao a tutti forse io ciao fabri allora volevamo parlare soprattutto di quello che è successo oggi ovviamente il 2 di gennaio mancano due giorni alla cremonese e di maria parede si sono presentati tutti belli sfarzosi dopo le feste del mondiale e alcuni dicono che in realtà gliel'ha detto la juve potete tornare dopo un po di pausa in realtà altri dicono che sono stati loro a prendersi le vacanze fino all'ultimo visto anche che rabbio è tornato il 29 quindi potevano tranquillamente anche loro tornare prima e poi due paroline sul su come vedi il progetto juve se pensi che i giovani devono avere spazio e devono essere sfruttati al meglio e niente cosa pensi che succeda da qui fino a giugno se si saranno delle rivoluzioni in dirigenza se vedremo un altro allenatore o rimarrà più o meno tutto così ma allora secondo me parede di maria avrò fatto meglio rimanere in argentina perché quei due lì allora vero che di maria quando entra in campo fa la differenza paredes no è molto meglio miretti e fagioli paredes tenono in panchina ormai ce l'abbiamo fino a fine anno se non riusciamo a rispedirlo al psg subito sarebbe una buona mossa di maria non è non è a problemi qualche problema fisico quindi è un giocatore che ti gioca una partita si e tre no è vero quando ti gioca la partita ti fa la differenza però abbiamo anche questi giovani emergenti tra sulle island junior eccetera che comunque anche loro fanno la differenza e di maria è un esperto adesso anche campione campione del mondo ok teniamolo fino a fine giugno e però questi non sono i giocatori su cui puntare giocatore a fine carriera quanto riguarda meccalister che dicono che venga la juventus perché meccalister è al brighton e il celsi ha già bussato la porta del brighton per andare lì se tu fossi meccalister cosa faresti andresti venire la juventus no vai al celsi dove hai possibilità di vincere la champions league prendere molti più soldi e poter vincere in europa oltre che in inghilterra che è più prestigioso vince la premier league vince la serie a quindi la juventus in questo momento cosa può fare il calcio italiano non è più quello di una volta la juventus per riuscire a competere in italia e soprattutto in europa deve assolutamente puntare sui giovani è l'unica strada perché il top player ok c'è stato ronaldo che è venuto però è venuto poi andato e allora il top player non viene alla juventus a meno che non sia fine carriera allora il mbappe della situazione non verrà mai la juventus parte la juventus non ha i soldi per pagarlo però anche se dovesse avere i soldi la juventus metti che la famiglia agnelli vende la juventus a giugno come si sta sempre più parlando e ti arriva qualche americano quei soldi o magari qualche saudita qualcosa del genere ecco anche lì prima di venire il grosso giocatore ci vuole tempo tempo allora a questo punto cosa facciamo investiamo sui giovani questa facendo in barcellona no come anche il real madrid stesso che comunque è una squadra con tanti soldi è una squadra che è stata ricostruita ed è in fase di costruzione da parte di ancellotti con giovani no e hanno tanti giovani dentro la squadra anche under 20 abbiamo visto queste tre amichevoli che sono state fatte adesso durante il periodo del mondiale dove allegra è stato diciamo un po costretto a far giocare i giovani sono i giovani molto interessanti a vivente si ha fatto un'ottima campagna acquisti e con i loro due allenatori delle giovanili tra brambilla e montero sta facendo un ottimo lavoro con questi giocatori stanno stanno emergendo hanno giocato nella prima squadra hanno fatto bene e abbiamo riccio in difesa abbiamo barberi sono due giovani in difesa che possono fare molto bene gatti è riuscito ad emergere bremer tornato dal mondiale prima degli altri comunque bremer è di nuovi acquisti è uno che secondo me è al futuro nella juventus e poi abbiamo devinter che sta giocando in prestito che può rientrare comunque sta facendo bene rovelle rano che sta facendo bene al monza possiamo fare entrare loro due fagioli miretti sono rimasti alla juve e stanno facendo bene in giugno ha rinnovato adesso il contratto noi che abbiamo a che che adesso ha recuperato l'infortunio anche chi sta facendo un compionato e a margine di miglioramento quindi puntiamo anche su di lui e poi compagnon ha fatto delle buone cose e barancacé anche quindi questi sono solo e non li ho menzionati tutti però tutti questi che ho menzionato sono tutti ragazzi validi che possiamo far giocare in prima squadra per il futuro no rabbio probabilmente verrà venduto a gennaio perché se aspettiamo giugno non prendiamo soldo e quindi vendiamolo adesso prendiamo 25 30 milioni che possono aiutare a sistemare un po il bilancio però e poi so che vogliono comprare il potere dell'empoli che che può essere il futuro e scesni con le probabilità giugno andrà via anche se io spererei che andassi via adesso magari far fallata delle sue un'altra delle super uscite e noi siamo gli unici qua su youtube che parliamo delle capace nelle uscite è un portiere top deve essere in grado di fare bene le uscite di nozhov perché per quanto tu possa essere bravo qualcosa si ha detto lui qualcosa cosa ha detto fabbri di nozhov che un portiere deve saper fare due cose comandare la difesa e essere bravo nelle uscite e lì dove vedi il portiere sei bravo vediamo per esempio donnarumma donnarumma anche lui nelle uscite non è un gran che infatti a psc tifosi si stanno lamentando in italia abbiamo altri portieri secondo me più vari di donnarumma anche per la nazionale italiana e quindi la juventus si prende il portiere dell'empoli come si chiamava portiere dell'empoli vicario vicario ecco vicario secondo me tra quelli che abbiamo in italia in questo momento è il più valido e non è giovanissimo perché ha 26 anni però promette bene ha fatto la gavetta è uno che con per in si può alternare secondo me è un po più bravo di per in e però ci vuole l'allenatore giusto no per poter avanti un progetto di giovani adesso sta parlando che la famiglia neri vuole vendere la juventus quindi centenario potrebbe essere che la famiglia neri dopo cento anni vende la juventus chi è che potrebbe comprarlo qualche gruppo americano sicuramente o vediamo i sauditi con tutti i loro soldi che hanno guadagnato grazie al prezzo del petrolio che è andato su perché il nuovo governo americano ha deciso di non trivellare più per il petrolio negli stati uniti e questo ha fatto sì che il prezzo del petrolio è andato su facendo aumentare il prezzo di tutto perché qualsiasi cosa che tu compri che hai sulla tua scrivania è arrivato a casa tua o con un treno o con un aereo o con un camion il petrolio il costo del petrolio va su va su il costo di tutto no ecco quindi questa politica americana anti petrolio americano ha fatto sì che i sauditi diventassero molto più ricchi infatti se guardiamo questa è una cosa da menzionare guardiamo nel mondo del golf cosa è successo nell'ultimo anno e mezzo quando è stato creato la live golf che è un altro circuito di golfisti professionisti in alternativa al pga sponsorizzato dai sauditi che hanno pagato certi golfisti 500 milioni di dollari cash per giocare nella loro circuito cioè tu vieni ti do 500 milioni che è subito più i premi se vinci eccetera no questo è quello che non ha fatto con uno con uno solo eh l'hanno fatto con diversi i pga ci sono incavolati sono incavolati perché hanno detto ah ma come è possibile andate a giocare in qual'altro circuito ma allora innanzitutto nessuno ha l'esclusiva no sui golfisti esatto e anche nel calcio no se domani mattina vorressero veramente creare la super league in alternativa alla champions league al uef eccetera basta che si mettono d'accordo quattro cinque squadre e il giochino si fa capito allora è giusto è sbagliato secondo me è giusto perché se c'è un po di competizione fa solo bene a tutti fa solo bene a tutti questo che il livello di servizio aumenta per forza ma basta guardare la storia se uno studia la storia lo vedi che per esempio quei paesi che hanno aumentato la tassazione l'economia è andata giù no e quei paesi che hanno abbassato la tassazione l'economia è andata su quando la gente paga meno tasse ha più soldi in tasca con ora più soldi in tasca non compra un paio di scarpe ne compra due il negozio di scarpe ha guadagnato più soldi e quando uno guadagna è capito è molto semplice non ci vuole logico sia matematico è matematico no ecco quindi vediamo ronaldo che adesso ha deciso è andato in arabia saudita c'è chi dice che ha fatto male chi fatto bene probabilmente tutto il discorso che è successo tra manchester united e anche il mondiale ci sono non so se lo vogliamo in squadra perché potrebbe spostare gli equilibri in maniera negativa no secondo me ronaldo ha fatto benissimo in arabia saudita so che aveva due offerte sul tavolo a parte le squadre dell mls e ha scelto l'arabia saudita invece di andare negli stati uniti allora lì devono sicuramente sono seduti a tavola e l'hanno convinto con un progetto che secondo ronaldo è un progetto che ha più futuro dell mls vedersi cosa ha fatto l'arabia saudita con il live golf l'alternativa e pga e adesso ronaldo sta sbarcando in arabia saudita oggi e questo è solo l'inizio perché se ronaldo è andato lì ronaldo non è stupido ronaldo non era per i soldi è andato là perché l'hanno convinto la nazionale avessi dita fatto un mondiale discreto facendo vedere che c'è futuro e questi è probabilmente hanno detto ronaldo tu sei il primo ma adesso ne arriveranno altri esatto un pioniere pioniere del il vero pioniere è un ex giocatore di juventus sebastian giovinco per due anni la squadra competitor della squadra di ronaldo no è stato là ha preso 11 milioni di dollari all'anno giovinco in italia avrebbe preso molto di meno se fosse un milione all'anno tipo sì 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 la ne ha preso 11 per due anni non male ecco quindi ronaldo è andato là perché il calcio in arabia saudita ha un futuro io ho un carissimo amico che vive a riad che vola per la compagnia di bandiera della la saudia e lui è un anno che mi sta dicendo guarda fabrizio qua sta succedendo delle robe incredibili e questi stanno investendo stanno aprendo il mercato cioè da adesso al 2030 qua succederanno delle belle robe bisogna venire qua a far business e ronaldo questo l'ha capito ha capito e il calcio è sicuramente un modo per mettere l'arabia saudita sull'attenzione di tutti perché adesso tanti io incluso saremo curiosi di andare a vedere sta squadra come giocano giusto più gente guarderà il campionato saudita e sicuramente arrivano altri giocatori e questo aiuterà la saudita prendere il mondiale per il 2030 che loro ambizione e la gente adesso starebbe assoluta come mai sta facendo queste cose non è il golf nel calcio è un segnale che è un mercato aperto poi loro stanno investendo un sacco di soldi in in tecnologie nuove è vero è visto con la città che hanno fatto hanno progettato sì 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 quindi quindi è è una mossa da parte di ronaldo una mossa intelligente torniamo invece alla juve no ecco ti volevo chiedere fabbri visto che sei molto bravo in queste in questi dettagli riguardanti le tecnologie di allenamento no io ti chiedo anche riallacciandomi a quello che ho detto stamattina che ha fatto anche un po sorridere no come l'ho detto e paragonando lo stile di gioco del basket e gli allenamenti duri che fanno alcuni allenatori di eurolega se potrebbero funzionare abbinati a una juventus perché io ho visto una stella rossa di belgrado vincere sette partite di consecutive eurolega partendo da zero punti con il coach precedente e vincendo anche contro squadre fortissime dell'eurolega adesso io non mi ricordo quali però anche tra alcune delle top four della della classifica e questo fa capire che se tu sei duro nel potenziamento dei muscoli e nella coordinazione nell'esplosività probabilmente recuperi anche tanto di quello che ti manca come gap tecnico rispetto ad altre squadre e come come l'avete allora innanzitutto il calcio è un gioco di squadra ok ed è l'esempio lampante e quando la Germania ha battuto il Brasile 7 a 1 qualche mondiale fa in Brasile quello è stato un gioco di squadra quello è stato un gioco di allenamento di impostazione di di usare match analyst e tutte quelle cose la tecnologia lì è stata dove la tecnologia per la prima volta ha fatto vedere che una squadra che preso i giocatori singolarmente valevano molto meno della squadra brasiliana però il calcio si gioca in undici non in uno o non in undici individui no si gioca è un collettivo quindi se tu alleni la squadra e mi ricordo l'allenatore della nazionale tedesca diceva che loro stavano cronometrando quanto tempo ci voleva fare un passaggio e tu dobbiamo per battere il Brasile dobbiamo fare i passaggi più velocemente quindi loro avevano un tizio con cronometro ok cosa possiamo fare per migliorare la velocità di passaggio e si sono allenati su quello per esempio e hanno battuto c'è 7 a 1 il Brasile in casa è una roba ma c'è il Brasile non ha mai perso 7 a 1 avendo una squadra che poi il Brasile era forte non era una squadra scarsa ah sì no no c'aveva Fred Neymar Marcello e i tedeschi hanno dato una lezione abbiamo visto anche in questo mondiale che abbiamo visto delle squadre tipo il giappone che ha fatto anche il morocco che ha fatto delle cose che la gente non si aspettava e quindi la tecnologia gioca un ruolo molto importante nello sport in generale no e nel calcio stesso ma il calcio al contrario del tennis o del golf che sono sport individuali il calcio e poi calcio ha 11 giocatori in campo non è il basket che ne ha 5 e tu devi fare in modo da far coordinare 11 persone che giocano insieme che è più difficile rispetto a 5 e quindi ci vuole ci vuole una grande testa no da parte dell'allenatore del suo staff per riuscire a fare una roba del genere allora la Juventus ha l'infrastruttura giusta perché hanno investito un sacco nello stadio nel training ground eccetera eccetera quindi infrastruttura c'è adesso ci vuole un allenatore della prima squadra che sappia prendere in mano queste questa tecnologia insieme ai giovani far rivincere in Italia la Juventus e potersi imporre anche in Europa e questo è possibile ma ci vuole un allenatore giusto per riuscire a fare questo allora Allegri probabilmente ce lo teniamo fino a giugno speriamo di riuscire a avere nei primi quattro per il nuovo campionato si parla sempre più di Zidane e se la Juventus verrà venduto sicuramente un Zidane è molto probabile che arrivi c'è anche io penso così perché poi Fabio ha visto che Deschamps sembrava che non dovesse rinnovare avevano detto tutti ma no ma Zidane è già promesso il suo sposo della Francia il 31 di dicembre è arrivato l'ufficialità di Le Parisien che ha detto che Deschamps non solo rinnova fino all'europeo che lo vuole vincere ma addirittura pretenderebbe di arrivare fino al mondiale 2026 per chiudere poi in pompa magna vincendo probabilmente almeno l'europeo perché nell'europeo è più a portata di mano e il mondiale l'ha perso ai rigori quindi lui ha fatto veramente miracoli quindi non dare un tributo a Deschamps mandandolo via solo perché è arrivato secondo perdendo i rigori sarebbe stato pazzesco ha fatto bene sia la Francia che lui rinnovare no ha fatto bene anche perché comunque ha una squadra che promette bene Mbappe che è ancora molto molto giovane ha davanti a 6 almeno 3 4 mondiali quindi a tutto tempo per vincere un secondo se non un terzo mondiale e star là insieme a Pelé e visto che ho menzionato Pelé contro gli anzi della famiglia di Pelé sì è vero stanno facendo i funerali in Brasile sì sì lui senza dubbio è stato il migliore della storia la detta di tutti non soltanto per i trofei vinti ma proprio per le giocate che faceva i gol che segnava la leadership che aveva dentro e fuori dal campo perché era un emblema e ecco speriamo di avere anche noi di nuovo un Pelé alla Juventus o un Platini un ma sai i giovani che abbiamo menzionato prima sono molto promettenti quindi io la Juve del futuro la vedo molto bene perché hanno acquistato molto questi giovani molto bravi hanno due allenatori Bramile Montero e Bramile che sta facendo un ottimo lavoro stanno valorizzando questi ragazzi tu Cote quando sono entrati in campo ce n'erano 5 6 in campo in contemporanea loro giocavano come sono abituati a giocare nell'anno 19 anni 23 quindi non è frutto delle giocate che hanno fatto eccetera e Allegri certo lui approfitta lui è un politico no quindi si è molto diplomatico lui usa il materiale che ha sperando che le cose vadano come voglia lui senza tanto faticare ecco manda avanti gli assistenti si fa dire le cose nell'orecchio ecco cosa dovrei cambiare qui metto dentro questo o quell'altro non so faccio un esempio durante le partite non lo vedi mai che prende in mano la situazione e modifica lui capito lo faceva forse negli anni fino al 2018 19 no quando ti metteva dentro Cancelo a 20 minuti alla fine Douglas Costa per spaccare la partita ma lì diciamo che lo faceva di inerzia cioè sapeva che quel giocatore lì ti faceva gol oppure ti faceva segnare gli altri e non avevi dubbi a chi mettere dentro adesso anche Allegri in difficoltà perché giochiamo sul perimetro in orizzontale non andiamo mai in profondità anche quando ci andiamo facciamo queste giocate dalla tre quarti con sti palloni dentro a campanile non facciamo mai un dribbling a saltare l'uomo e non diamo mai quei palloni velenosi tagliati dentro raso terra non so dal fondo non le vedo mai alla juve queste cose qua ecco per esempio vlaovic vlaovic non so bene cosa stia succedendo ecco però ha avuto un po un'involuzione e potrebbe essere vlaovic stia succedendo quello successo coluseschi che ha perso mentalmente si sia sentito da meno come mi ha mandato a te quella quell'articolo anche c'è in cui coluseschi ha capito che stava sentendo di non essere all'altezza si è depresso ed è entrato in questo circolo vizioso e quindi te dici che vlaovic potrebbe avere un po di sindrome alla coluseschi allora a me non sorprenderebbe se a gennaio vlaovic non va non va in premier league se vendono vlaovic questa storia della pubblica e secondo me è un po una scusa un po strana e quindi staremo a vedere staremo a vedere perché tecnicamente fabri tu per l'esperienza anche che hai avuto i giocatori che hai visto precedentemente come platini quando ebbe la pubalgia guarì abbastanza presto no lui ha avuto un problema infatti platini ha smesso a 30 32 33 anni ha smesso si smise giovane molto presto probabilmente che poi l'ha fatto anche al top no e quindi a quel punto di vista è stata una decisione che poi uno deve capire il proprio corpo no anche anche ronaldo per esempio ronaldo ha un modo di giocare a calcio molto atletico no e che a 37 anni non sei più quello che eri quando ne avevi 24 25 no certe giocate non ti riescono perché gli altri corrono corrono più velocemente no e quindi devi un po alterare il modo di giocare e non so se questo ha inciso nel suo spostamento in arabia saudita rispetto a un messi che è un al piede un po ho visto documentari su messi che ha fatto la bbc e ci sono filmati di messi quando aveva setto otto anni cioè cioè quelle giocate già allora è nato col piede col pallone lino si è meglio messi o ronaldo sono due giocatori diversi potrebbero anche giocare bene insieme ma messi secondo me ha una giocata più naturale ronaldo ha una giocata che è stata allenata fabbricata sì sì vero questo è la differenza tra i due però sai ronaldo comunque ripeto si è andato in arabia saudita perché l'hanno convinto col progetto non quei soldi sì anche secondo me è un segnale per tutti noi ma soprattutto alla juventus io questi giovani che abbiamo già in squadra li vedo molto molto bene e vediamo queste prossime partite come come andranno le cose e vediamo se arriva sto sono una proprietà è un nuovo allenatore a giugno dai speriamo adesso teniamo un po di acquolini in bocca ai tifosi perché dirgli che rimane allegri fino a 2025 sarebbe esagerato no 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 secondo me allegri allegri rimarrà fino a giugno se non lo mandano via prima potrebbe anche succedere dipenderà come andrà il campionato però dubito che lui rimarrà oltre giugno sì anche secondo me perché fabio per mandarlo via il problema qual è stato che dovevano dargli i soldi tutti in tronco secondo me secondo me non è un discorso di soldi perché comunque i soldi ci sono basta vendere vlauvi ci saltano fuori i soldi per liberarti di di allegri prendete anche zidane quindi non è un discorso di soldi è più un discorso era amico di agnelli hanno cambiato questo rapporto facci caso hanno mandato via allegri hanno preso sari dopo un anno l'ha mandato via preso pilo un anno l'ha mandato via e ha ripreso allegri quindi mandare via allegri dopo un anno la gente dice ma che fanno ai due ogni anno cambiano allenatore quello allora è rimasto per questa altra stagione staremo a vedere speriamo di qualificarci per il prossimo champions league quello sarà importante ma comunque anche se dovessimo non qualificarci e qualificarci per l'europa league anzi che la champions league va bene perché possiamo puntare sui giovani è vero sì sì e poi l'ha fatto l'arsenal l'arsenal non si è qualificato la champions league la stagione scorsa hanno continuato a puntare su arteta come coach e quest'anno sono in cima e con ogni probabilità se continuano con questa marcia qui vinceranno la premier league per la prima volta in tanti anni l'ultima la vinsero nel 2005 con vengher robe da veramente 17 anni fa poter purtroppo ha perso l'altro giorno ed è uscito dalle prime però conte sta spingendo per dei nuovi acquisti che arriveranno nelle prossime settimane e abbiamo il newcastle che sta facendo molto molto bene ma anche lì hanno puntato su una natura giovane con giocatori giovani e quindi vediamo che questa filosofia dell'allenatore che sa valorizzare i giovani è un nuovo trend ok e la juventus se vuole riuscire a vincere in europa come ha fatto mancini con la nazionale italiana e i giovani ce li ha già in squadra dobbiamo dobbiamo solo fare quel cambio del portiere e il resto tutti i giocatori già di proprietà di ventus bravo metti il terzino sinistro che ce l'abbiamo già coltivato dentro che è barbieri oppure comunque c'è cambiaso che può rientrare da bologna ne abbiamo di metodi pellegrini non è visto bene dal leghi finché rimane lui non giocherà e poi sì là davanti abbiamo delle opzioni possiamo mettere il compagnolo come su quarta punta per iniziare a centrocampo c'è varietà fagioli miretti sono a posto rientra anche pogba adesso davanti abbiamo comunque vlavic ancora lì milic se vlavic dovesse andare via chi ne avrà più spazio che in probabilmente con un po più di 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 come diceva il nostro amico mario gatta no che è un numero 9 è una punta no la stare e se gli serve bene alla palla è uno che può fare la differenza mili sta sta dimostrando di essere un giocatore valido e quindi un ottimo investimento se rimane bene e se non rimane dovremo magari vedere tra i giovani che abbiamo compagnon ha giocato poco ma vediamo se non prende qualcuno qualche altra squadra però non possiamo aspettarci il il top player perché non verrà lì no 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 quindi c'era caio giorge caio giorge nessuno parla di caio giorge caio giorge adesso rientrerà fra qualche settimana e vediamo questo ragazzo diamo qualche spazio a sto ragazzo qui vediamo vediamo cosa fa anche perché zitto zitto fabri ti ricordi che quando noi indovinammo che caio giorge veniva la juve lo cercava il milan e lo cercava il benfica quindi vuol dire che quel giocatore era valido perché il milan con gazzidis massara maldini avevano l'occhio lungo e anche il benfica di rui costa ha fatto vedere al mondo cosa vuol dire giocare con raffa silva e tu penso fernandes quindi vuol dire che loro sapevano che caio giorge era un grande giocatore come dici te magari noi non non l'abbiamo l'abbiamo scartato a prescindere di ragazzi con talento il mondo è pieno di calciatori golfis con talento qual è la differenza tra quello di talento che ce la fa e quello di talento che non ce la fa è la testa la testa viene anche formata dall'ambiente quindi se tu hai un allenatore che ti dà spazio ti permette di sbagliare perché dice ok hai sbagliato imparato qualcosa bene ok andiamo avanti vai bene in queste tre cose queste altre due cose bisogna lavorare un attimino lavoriamo no se il ragazzo a te lavora se l'allenatore gli dà fiducia e col suo staff riesce ad aiutare quel giocatore come ha fatto fabio cappello con i bravo immovic che sapeva solo calciare con il vero è vero è nato a calciare con l'altro piede deve dare un grande un grande thank you a fabio cappello perché l'ha aiutato a diventare il calciatore che poi è diventato quindi caio giorge in questo momento è alla juventus se abbiamo un allenatore che lo allena bene e gli dà spazio e gli permette di sbagliare allora questo ragazzo probabilmente viene fuori potrebbe diventare ronaldo del futuro chi lo sa chi lo sa però di talenti là fuori ce ne sono ok però questi talenti vanno come è successo con messi l'hanno pescato a 13 anni dalla argentina l'hanno portato a barcellona sapevano che aveva un problema che non stava crescendo gli hanno fatto quell'operazione per aiutarlo a crescere un po di più però in quel periodo hanno hanno dato fiducia a sto ragazzo gli hanno dato confidence no che è importante e messi diventato quello che oggi è grazie anche a quel quel percorso formativo che fondamentale e nel percorso formativo non c'è solo un discorso tecnico e atletico c'è anche un discorso mentale no di essere di credere in se stessi guarda klusevski è arrivato la juve un ragazzo con talento e compirlo ha fatto abbastanza bene e poi allegri gli ha tolto questa fiducia non lui non aveva più fiducia in se stesso quando entrava in campo si vedeva no che sbagliava la giocata perché gli mancava questo 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 suo confidence interno suo è arrivato potenam di conte l'hanno rinannato in un certo modo gli hanno dato spazio gli hanno dato confidence il giocatore è esploso anche anche bentancur si stava stava devolendo invece di evolvendo no e si è evoluto nel tempo alla juventus bentancur poi dopo si stava andando nella direzione quindi non ci vuole solo talento ci vuole anche un ambiente che aiuti questo talento a tirarsi fuori e 6 essere capace è una cosa ma essere convinti della propria capacità e anche quello è molto importante che tu puoi avere talento io conosco anche penso a la famosa cantante susan boyle la cantante inglese che fino all'età di 53 anni ha fatto la bidella in una scuola ecco quando è salito sul palcoscenico simon cowl ha detto ma chi è questa qua bidella cosa viene qua a fare però aperto la bocca ha detto ma io mi chiedo questa donna qui dove è stata per 53 anni e dopo ti arrabbi quasi perché lei non si è fatta vedere fino a quell'età lì ma non è mica colpa di nessuno non credeva in se stessa non sapeva pescare questi giovani e metti in un ambiente che gli permette di crescere ma di credere in se stessi quello è fondamentale e la juventus se se mette l'allenatore giusto a giugno che sa valorizzare i giovani allora siamo messi bene non dico che vincere la champions league l'anno prossimo però ci sono speranze che la juventus possa rimettere il calcio italiano esatto ai livelli che merita perché adesso siamo veramente il quarto barra quinto campionato perché è vero che dicono che la nazionale italiana non ha sì talenti italiani ci sono forse davanti uno che fa tanti gol ma è da tanto che ma che c'entra avanti puro moise king potrebbe potrebbe essere la possibilità il fatto che adesso tanti top per non vengono a giocare in italia allora le squadre italiane dovrebbero da spazio più ai giocatori italiani in maniera da far venire fuori un ragazzo italiano che possa giocare al numero 9 per la nazionale italiano forse più di uno no e raspadori è uno che sta facendo bene che è italiano no chi vediamo se se continua chi potrebbe essere abbastanza decisivo e vediamo se ci sono altri ragazzi 16 17 anni in questo momento se gli dai spazio possono emergere o se sono gli danno spazio in italia ragazzi andate a giocare in inghilterra stagna o dove danno spazio giovani anche barcelona barcelona ha finito i soldi stanno dando spazio giovani eh sì perché non posso veramente far uscire neanche una bustarina con 5 euro dal bilancio perché il vecchio cioccio diceva questo diceva quando finiscono i soldi devi usare la testa perché è facile quando li hai da buttare a fondo perduto ma guarda allora psc e il manchester city quanti soldi hanno speso loro per giocatori e nessuno di queste due squadre ha vinto la champions league perché fatti capire che gli ingredienti per vincerla sono veramente migliaia non basta sarà anche questo il motivo per cui ronaldo ha detto beh sai se vado al manchester city per dire vado al psc non è detto che io venga la champions league un'altra volta io qui il tempo sta finendo perché ormai io ho 37 anni andiamo in una lega che si svilupperà molto avrà una crescita molto rapida nei prossimi anni io posso aiutare questa lega questi giovani e mi prendo 200 milioni all'anno intanto questo deve essere un momento e si 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 fabrice guardi lasciamo andare bravissimo grazie della tua presenza abbiamo sviluppato tanti temi ti aspettiamo presto e poi volevo dire ci penserai tu alias scanavino perché vi assomigliate lo dicevo anche in privato ho messo le vostre foto vicino adesso sono uguali potrebbero fare dg e ad dai forza giuve ciao a presto mai ciao